Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove in direzione Genova c'è traffico bloccato per un incidente al chilometro 132 tra la diramazione Lucca, Viareggio e Versilia, tre chilometri di coda per un'operazione di recupero e soccorso stradale in direzione opposta. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana, sempre in A1 personale sulla strada tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna e tra Chiusi Chianciano e Orvieto in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPILEI tratto chiuso per lavori tra Livorno Porto e Livorno Aurelia in direzione Firenze, sulla statale Trebbi Stiberina tratto chiuso per lavori tra Pieve Santo Stefano Sud e Madonnuccia Poggiolino in direzione Viterbo Terni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!